Mister, ci siamo, ultimi 90 minuti di questo campionato, al comunale arriva la Carrarese, le chiedo che settimana è stata, come sta la squadra? La partita sarà una partita dura, difficile, ma lo sapevamo già, ma noi siamo pronti, è la partita della nostra vita, è la partita dell'anno, e quindi si va in campo per vincere e basta, la settimana è stata una buona settimana, finalmente una settimana a tipo, e quindi niente, ci prepariamo a questo incontro di domani, e naturalmente poi vedremo quello che succederà, ripeto, per noi è stata una settimana tra virgolette atipica, perché è una settimana a tipo, Dobbiamo, ripeto, cercare di arrivare in tutti i modi a 75 con la nostra forza e con l'apporto e il supporto del nostro pubblico, che so che sarà numeroso. Una stagione che è cominciata tardi, a causa di un'ingiustizia, che poi ha avuto però un seguito molto importante, con dei picchi davvero storici, la vittoria a Marassi, la proda all'Olimpico, le tante belle vittorie in campionato. Sì, oggi non è il momento di fare polemica, naturalmente è da ricordare il fatto che noi in cinque mesi e mezzo abbiamo fatto 39 partite, e questo è un dato di fatto, un dato oggettivo, perché considerando il fatto che a gennaio per 15 giorni abbiamo giocato, sono cinque mesi e mezzo, dal 4 novembre al 4 maggio, sono 39 partite, e in questi cinque mesi e mezzo abbiamo fatto delle cose straordinarie, a parte 72 punti e speriamo che siano 75 domani sera, abbiamo fatto delle cose straordinarie, la vittoria a Genova, la proda all'Olimpico e tutto il resto. Ripeto, abbiamo grandissima fiducia, grande fiducia in quello anche che succederà a Siena, e naturalmente non dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a vincere la partita, perché non vorremmo avere poi il rammarico. Restare uniti, e poi lo ha detto subito nel post partita contro la Juventus Under 23, sarà importante questa volta giocare in 12 con la spinta del pubblico? Sarà una spinta incredibile quella dei tifosi, è il classico dodicesimo in campo, non è retorica, non è che si dice così, ma la spinta del pubblico è determinante, soprattutto in queste partite, quindi li aspettiamo numerosi perché la loro spinta sarà importantissima. Poi prenderemo tutto da sportivi e da professionisti.